Carissimi amici, benvenuti a questo nostro incontro. Oggi è mio interesse di parlare di un argomento, di illustrarlo, di introdurlo, che fondamentalmente da secoli solletica l'animo, la mente, la curiosità di buona parte degli uomini e delle donne che si dedicano alla ricerca spirituale, alla pratica magica e a tutta una serie di riflessioni legate all'utilizzo di determinati strumenti. Strumenti come questo del resto che ritroviamo presentesi all'interno di strutture iniziatiche, all'interno della pratica religiosa, all'interno di quella che è la cultura magica diffusa popolare. Uno strumento che attraversa fondamentalmente più culture religiose e che attraversa fondamentalmente secoli e secoli e secoli di storia della civiltà, o per meglio dire delle civiltà, che si sono sviluppate all'interno del bacino del Mediterraneo. Questo strumento è rappresentato dal Libro dei Salmi, da i Salmi, che vedremo in prossimi incontri, ritroviamo all'interno di numerose strutture iniziatiche, esoteriche, fra loro anche profondamente diverse per genesi, per strutturazione e per obiettivi. In questo nostro primo incontro cercherò di dare un'illustrazione storica di come questi Salmi siano pervenuti a noi, a noi italiani, a noi francesi, a noi inglesi, a noi, uomini contemporanei. Già questo mio accenno sta a significare che fondamentalmente vi è stata una rielaborazione del Libro dei Salmi, ma non solo vi è stata una rielaborazione, vi sono più libri dei Salmi. Ed è per questo che bisognerebbe sempre fare anche una certa attenzione, in quanto sovente ci sono anche dei grossolani errori, attorno a quello che è il Libro dei Salmi, a quello che è la fonte di traduzione e a quello che fondamentalmente è il Libro dei Salmi utilizzato dalla struttura che ci troviamo innanzi. Faccio un esempio molto semplice. Per esempio, gli eletti Cohen utilizzavano come Libro dei Salmi quello contenuto nella Clementina. La Clementina aveva una determinata strutturazione del Libro dei Salmi, erano 151, mentre oggi, per esempio con l'edizione CEI 2008, sono 150. Ma questo perché? Perché Clementina e l'edizione CEI del 2008 afferiscano a traduzioni di due Torah diverse. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Nei primi secoli dell'era cristiana, all'interno di un impero romano sempre più debole, va detto che circolavano molteplici traduzioni della cosiddetta Bibbia dei Settanta. Quest'ultima è sempre utile ricordare che era una versione in lingua greca del Libro Salmo degli Ebrei, ad opera di 70 o 72, a seconda quella che è la traduzione, eruditi, rabbini comunque eruditi, ed era destinata, la cosiddetta Bibbia dei Settanta, a chi? A degli ebrei della Florida, della Florida comunità mercantile di Alessandria d'Egitto. Tutto sempre parte da Alessandria d'Egitto. Ora, anche qui, a mio avviso, è utile una piccolissima precisazione. Il greco era una delle lingue franche del tempo, era una delle lingue commerciali del tempo, una delle lingue più diffuse al tempo, perché era la lingua sia degli eruditi, ma era anche una lingua, ovviamente nei suoi dialetti, molto praticata all'interno dei centri mercantili, specialmente quelli africani, dell'allora Imperio Romano. Orbene, a quel tempo, come abbiamo detto, c'erano numerose Bibbie, tradotte dalla Bibbia dei Settanta. Ovviamente c'erano numerose Bibbie in latino. Ora, anche lì, voi pensate, a quel tempo non c'era la stampa. A quel tempo c'erano dei monaci che praticamente si mettevano lì, testo a fronte, e iniziavano a tradurre. Iniziavano a tradurre, iniziavano a scrivere. Filippo, una parola in greco, che a sua volta era una traduzione di una parola in ebraico, la traduceva in latino con un'altra parola, all'interno di un altro contesto. In più c'è sempre da ricordare come fondamentalmente l'ebraico biblico fosse una lingua sostanzialmente priva di vocali a flusso consonantico. Quindi tutto era un qualche cosa in interpretazione, in divenire. Detto ciò, a quel tempo, quindi, circolavano tantissime Bibbie in latino e queste Bibbie differivano le une dall'altra. Qualcuna per meri errori, qualcuna per volontà di traduttori che avevano seguito più il senso letterale, altri avevano seguito più una determinata forma poetica o prosaica, altri ancora avevano cercato di interpretarne il contenuto. Insomma, un marasma totale. Voi dovete pensare che fondamentalmente la Chiesa, la Grande Chiesa, si stava strutturando e non aveva un testo canonico valevole in ogni sua articolazione territoriale, in ogni sua diocesi. Quindi poteva capitare tranquillamente che un uomo si recasse a messa a Lione e ascoltasse fondamentalmente la lettura di un passo biblico. E mettiamo che era una persona erudita in latino, poi se ne andava tranquillamente, tranquillamente un pochettino di meno, perché a quel tempo, insomma, di strada da fare ce n'era tanta, se ne andava tranquillamente a Roma, ascoltava un'altra messa e lo stesso brano veniva recitato con parole diverse. Ora, fra le altre cose, tutto ciò non era solamente una questione legata ad una prosa, ad una narrazione, a un riempimento di uno spazio sacro, ma era anche un qualche cosa che andava a inficiare una unità intellettuale, sacerdotale, sacramentale e, permettetemi, egregorica della nuova, della nascente struttura chiesa. Allora che cosa accade? Accade che a un certo punto abbiamo un papa, questo papa si chiamava Papa Damasio I, non so se c'è stato un papa Damasio II, a quel tempo avevano anche dei nomi alquanto strani, che a un certo punto si rende conto di tutto questo caos e decide di prendere e dare uniformità. Però l'impresa era abbastanza ardua, era necessario trovare un erudito che fosse al contempo uomo di chiesa e che fosse versato in ebraico, in latino e in greco e che cercasse di mettere ordine. Questa persona fu individuata in Eusebio Girolamo, nato all'incirca nel 347 e morto circa nel 420, che era una persona di cultura munita di un forte intelletto, ma anche e soprattutto di una forte personalità. Perché forte personalità? Perché era comunque il suo ruolo delicatissimo e doveva in qualche modo resistere a priori e a monte a quelle che sarebbero state inevitabilmente tutte le polemiche causate da questa sua operazione di traduzione e di revisione. Tant'è che in realtà Papa D'Amaso a Girolamo chiese la revisione, ma la revisione di cosa? Bene, la revisione di quella che noi chiamiamo Vetus Itala. Perché, come vi ho detto in precedenza, a quel tempo all'interno quindi delle varie articolazioni della grande chiesa circolavano tantissime tantissime traduzioni che possiamo dividere fondamentalmente in due in due grandi sottinsiemi. Il primo possiamo chiamare Vetus Afra che erano le traduzioni in latino della Bibbia dei 70 che circolavano all'interno delle province africane che erano tantissime province africane e in parte anche medio orientali dell'imperio romano e la Vetus Latina e fra la Vetus Latina e la Vetus Itala che, per inciso è la mia preferita, che circolavano invece all'interno delle province europee continentali dell'imperio romano. Insomma, Fra Gerolamo prende, che era anche segretario di Prappa Damasco, prende questo incarico e con puntiglio non solo lo porta a termine ma eccede anche. Perché eccede? perché Fra Gerolamo ci dona una revisione e due traduzioni. Cioè, gli era stata chiesta da Papa Damasco di fare una cosa e lui ne fa tre. Beato lui! Allora, la revisione che fondamentalmente era quello che gli era stata chiesta si basa praticamente sulla Vetus Itala ed è datata 384. Essa, l'opera finale viene denominato Salterio Romano perché il Libro dei Salmi viene denominato Salterio Romano perché era la curia romana che poi in qualche modo lo utilizzò come testo fondamentale all'interno della propria liturgia. Qual è l'opera di Girolamo? L'opera di Girolamo è in questo caso l'opera di un professore di latino. Prende la Vetus Itala in qualche modo la Vetus Itala scusate in qualche modo la sfronda da tutta una serie di ridondanze la cerca di andare a individuare quelli che erano i termini in latino e di adeguarli anche a un latino che doveva essere finalizzato al compimento di un'opera religiosa di un rituale insomma cerca di fare tutto ciò e automaticamente automaticamente non proprio prende e dà vita a questo Salterio Romano ma come ho detto come ho detto non è soltanto questa l'opera che Girolamo compie Girolamo compie anche due traduzioni allora la prima traduzione per compierla lui si reca a a Betlemme doveva essere all'incirca il 389 e traduce dal greco la cosiddetta Bibbia dei 70 contenuta nell'Esaplia che era praticamente una raccolta di scritture bibliche di origine il risultato che viene fuori è il cosiddetto Salterio Gallicano che è chiamato così quindi in latino Salterio Gallicano che è chiamato così perché fu utilizzato all'interno di quella che poi erano le diocesi della Francia e da cui poi deriverà la Clementina ma ancora non si ferma era un uomo di intelletto ma anche di tanto tempo e compie una seconda traduzione questa viene effettuata su un testo ebraico e quello che viene fuori si chiama Iusta ebraicorum traslatus che rispetto alle altre due quindi rispetto alla Gallicana e rispetto al Salterio Romano non ebbe un grande successo quindi ricapitoliamo l'opera di Girolamo si struttura in una revisione e due traduzioni la revisione è il Salterio Romano che è la revisione della Vetus Itala le due traduzioni sono per quanto riguarda noi cioè il Libro dei Salmi il Salterio Gallicano che è una traduzione dalla quindi la Vetus Itala è una revisione in latino di un testo latino il Salterio gallicano è una traduzione in latino di un testo greco la Bibbia dei 70 contenuta in origine la Iusta ebraico invece è una traduzione in latino di un testo ebraico e fra i tre è quello che ha avuto il minor successo ovviamente l'opera di Girolamo non fu un'opera come avevo preannunciato esente da critiche anzi tanti gli diedero addosso tanti all'interno della chiesa gli diedero addosso al che lui perché sostenevano che fondamentalmente lui avesse in qualche modo alterato questi testi perché sostenevano che fondamentalmente la sua era stata una scelta discrezionale e quant'altro al che lui risponde a questo modo e ve lo leggo io infatti non solo ammetto ma proclamo liberamente che nel tradurre i testi greci a parte le sacre scritture dove anche l'ordine delle parole è un mistero non rendo la parola con la parola ma il senso con il senso o come maestro di questo procedimento Cicerone che tradusse il protagora di Platone l'economico di Senofonte e le due bellissime orazioni che Eschine e De Mostre ne scrissero l'uno contro l'altro ah puntini 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 anche Orazio poi uomo acuto e dotto nell'ars poetica da questi stessi precetti al traduttore colto non ti curarti rendere parola per parola come un traduttore fedele che cosa significa questo significa che fondamentalmente quando andiamo a tradurre un testo scritto non solo in una lingua cioè ovviamente scritto in una lingua che non è la nostra ma che addirittura appartiene a un ceppo linguistico che non è il nostro e quindi non solo segue regole grammaticali diverse da quelle di oggi inoltre la lingua è in continua evoluzione dobbiamo cercare di comprendere specialmente nei salmi che sono prettamente testi poetici e profetici dobbiamo cercare di comprendere nel senso dobbiamo cercare di comprendere negli stimeremi dobbiamo cercare di comprendere nelle figure retoriche onde cercare di infondere in colui che legge il senso raccolto in quelle parole il senso raccolto in quelle frasi e non tanto di tradurre mele con mele quando con tutta probabilità le mele in quel contesto lì hanno un significato completamente diverso dal nostro ora quello che fondamentalmente è molto interessante è che quando noi siamo di fronte per esempio ad un testo riconducibile a fine XVII XVIII secolo e che tratta dell'uso dei salmi noi dobbiamo chiederci quando io trovo che so il salmo 90 è lo stesso salmo 90 o c'è una diversa articolazione perché vedete i testi tradotti dal greco o dal latino hanno una diversa numerazione dei salmi i testi tradotti dal masoretico ne hanno un'altra un salterio in latino può avere triplice origine nella sua genesi abbiamo le traduzioni in latino della Bibbia del 70 che era in lingua reca e che aveva 151 salmi poi abbiamo delle traduzioni in latino del testo ebraico masoretico che era praticamente una comunità di eruditi il testo masoretico è la versione ebraica della Bibbia è stata composta all'incirca fra il primo e il decimo secolo dai masoreti dell'era cristiana e ci sono anche delle varianti molto significative rispetto alla Bibbia del 70 in più abbiamo come abbiamo detto per il salterio romano delle revisioni di precedente traduzione ognuna di queste ha una specifica numerazione del libro dei salmi e bisogna fondamentalmente sempre tenere presente che testo abbiamo innanzi a noi ora abbiamo visto come uno dei salteri tradutti da Girolamo sia il gallicano questo libro dei salmi è così denominato in forza della sua diffusione nelle province della Gallia dell'impero romano la sua importanza il suo successo furono tali da imporlo successivamente progressivamente anche in forza della diffusione del cristianesimo in Francia come testo canonico del messale liturgico esso infatti esso infatti è il salterio cioè il salterio messo contenuto e ovviamente revisionato è quello contenuto nella volgata clementina i salmi sono 151 e il salmo 151 è stato spostato in appendice in genere noi nei testi attuali troviamo 150 salmi ed è il testo che tradizionalmente viene utilizzato nella pratica magica con i salmi e questa volgata volgata perché erano bibbie tradotte quindi in latino e quindi per noi europei questa questa volgata è praticamente ha avuto una gestazione che ha coperto sia papa Sisto sia papa clemente ottavo è stata la bibbia definiamo la standard fino a quando la chiesa cattolica romana nel 79 l'ha sostituita con la nuova volgata dove curiosamente e questo qui lo lascio proprio a titolo di curiosità il primo libro ad essere pubblicato di questa nuova bibbia è stato proprio il libro dei salmi grazie a tutti e al prossimo incontro grazie a tutti